64 secondi per rispondere a queste domande. Vai! Scrittura su foglio o su smartphone? Su fogli. A casa o in giro? A casa. Di giorno o di notte? Di notte. Red Bull 64 Bars preferito e non vale il tuo? Il primo di Marra. Ritornelli o strofe? Ritornelli. Studio session o live? Live. Brani in inglese o in italiano? In inglese. East Coast o West Coast? East Coast. La prima cosa che hai pensato quando hai sentito il beat del Red Bull 64 Bars? Minchia. Citazione colta o dissing? Citazione colta. Featuring o brano da sola? Da sola. Young Miles o 6PM? 6PM. L'artista che dovrebbe fare un Red Bull 64 Bars? Da sub. E chi sceglieresti con te per un Red Bull posse? Salmo e Guè. La barra migliore del tuo Red Bull 64 Bars? Sono Moni Cash Bellucci, tu sei vinse il cassetto. Rari o Red Bull Racing? Rari.